La metodologia Business Model Canvas è il framework più famoso e utilizzato per definire e strutturare il modello di business di un'azienda o di una start-up. La sua funzione è quella di raccogliere all'interno di un unico documento come l'impresa crea, distribuisce e raccoglie valore. È stato ideato, insieme al Lean Model Canvas, da Alexander Osterwalder nel suo libro Creare modelli di business. L'obiettivo era dare agli imprenditori un metodo alternativo ma efficace, per rappresentare un modello di business, ovvero la strategia con cui si pianifica di generare profitto. La fama del Business Model Canvas è dovuta al linguaggio visuale e fortemente comunicativo con cui può e deve essere compilato. Il Business Model Canvas non vuole in alcun modo sostituire l'imprenditore, l'imprenditrice o lo start-upper. Piuttosto vuole essere una traccia, una guida che accompagna la definizione del Business Model, garantendo che nessun elemento chiave venga dimenticato. Questo perché un'azienda o una start-up non è solo composta da costi e ricavi ma dietro c'è molto di più. Ma la domanda che ci potremmo fare è, perché creare business innovativi col Business Model Canvas? È un metodo completo e sistemico. Utilizza un linguaggio visuale. Stimola la generazione di idee e soluzioni. Aiuta a passare dall'ideazione all'attualizzazione. È un potentissimo strumento di analisi strategica. Favorisce e stimola i teamworking. Cohen-Voge attiva diversi tipi di intelligenze. È stato testato, verificato e applicato con successo. È insegnato in master e centri di formazione. È facilmente integrabile. È in costante aggiornamento. La compilazione del BMC rappresenta un passaggio importante, affinché manager e dipendenti abbiano una visione chiara di come funziona il modello di business che chi con più e chi con meno consapevolezza applicano nelle attività quotidiane. In sostanza, il BMC è importante per capire e conoscere fino in fondo come è strutturato l'attuale modello di business. Lo schema è semplice, ordinato e deve essere comprensibile a tutti i dipendenti. Ideare nuovi modelli di business, sulla base delle perplessità e delle riflessioni sorte in fase di compilazione. Ci sono dei buchi o delle situazioni critiche? È il momento di fare ordine, capire come muoversi. Tante volte procediamo per abitudine, siamo orientati da ciò che si è sempre fatto in questi casi. Ma avere un quadro nitido e oggettivo della situazione aziendale, vista da più fronti, può aprire a strade ulteriori. La compilazione del BMC rappresenta un passaggio importante, affinché manager e dipendenti abbiano una visione chiara di come funziona il modello di business che, chi con più e chi con meno consapevolezza, applicano nelle attività quotidiane. In sostanza, il BMC è importante per capire e conoscere fino in fondo com'è strutturato l'attuale modello di business. Lo schema è semplice, ordinato e deve essere comprensibile a tutti i dipendenti. Ideare nuovi modelli di business, sulla base delle perplessità e delle riflessioni sorte in fase di compilazione. Ci sono dei buchi o delle situazioni critiche? È il momento di fare ordine, capire come muoversi. Tante volte procediamo per abitudine, siamo orientati da ciò che si è sempre fatto in questi casi. Ma avere un quadro nitido e oggettivo della situazione aziendale, vista da più fronti, può aprire a strade ulteriori. Come utilizzare il Business Model Canvas? Il Business Model Canvas può essere stampato in grandi dimensioni per facilitare il lavoro di gruppo. Le persone, infatti, possono disegnare e discutere gli elementi del nuovo modello di business, con coste e pennarelli. Grazie a questo approccio dinamico e partecipativo, l'espressione di ognuno viene facilitata in modo del tutto naturale, cosa che, per esempio, avviene con meno facilità in contesti di analisi e pianificazione. Il Business Model Canvas favorisce comprensione, discussione e analisi del business, allo stesso tempo, creatività e condivisione.